Il tutto emerge da un atto che è stato portato in coda al Consiglio regionale di ieri della maggioranza per riscrivere una norma impugnata e guarda caso la norma impugnata, la legge 32 del 2014, è una legge preelettorale che aveva ovviamente il sapore della propaganda che noi ritenevamo già ai tempi impugnabile poiché un Consiglio regionale fin troppo lungo che è durato sei mesi in più oltre le normali tempistiche della Costituzione e che si verificano in tutti i paesi occidentali aveva appunto deliberato e la legge 32, una legge omnibus, presentava un pacchetto propagandistico che riguardava il rimborso per i malati oncologici l'abbattimento delle aliquide fiscali di qui la questione delle tasse e alcune risorse che sul sociale venivano stanziate per le soglie di povertà a noi ovviamente una serie di provvedimenti stavano bene ma ritenavamo che erano costruiti e deliberati in regime di prograzia e quindi non legiferabile e così si sta verificando appunto, riteniamo peraltro una mossa propagandistica a margine ovviamente di una campagna elettorale imminente che anzi già si stava svolgendo nel mese di aprile perché fu deliberato nel mese di aprile il governo ha impugnato dinnanzi alla Corte Costituzionale questa legge precisando appunto le motivazioni, le argomentazioni che sono esattamente quelle che il Partito Democratico ai tempi sottolineava la legge non era fattibile, non era appunto deliberabile dal Consiglio regionale in regime di prorogazio Dei disperati sconfitti dalle elezioni che oggi tentano di raccontare menzogne agli abruzzesi invece è successo semplicemente che la legge dove era contenuta la riduzione delle tasse parliamo di meno di un pacchetto di sigarette a cittadino perché quello era 2 euro, 3 euro al mese a cittadino di riduzione delle addizionali regionali, in realtà è stata inserita una legge che non si poteva approvare perché il regime di prorogazio, cioè nei sei mesi che Chiodi si è regalato è stata impugnata, è incostituzionale, ci dobbiamo pensare a non ricominciare da capo